La vicenda che risale allo scorso dicembre scosse l'opinione pubblica per i video che testimoniavano le violenze nei confronti degli anziani anche ultranovantenni. Le indagini dei carabinieri all'interno della RSA Casa Albergo di strada in Casentino, comune di Castel San Nicolò, portarono alla luce il comportamento degli operatori. A distanza di mesi si profilano destini diversi per i sette operatori sociosanitari accusati di maltrattamenti. Per tre di loro il PM Marco Dioni, titolare dell'inchiesta, chiederà il rinvio a giudizio. Donatella Albertoni e Silvana Carnevali, difese dagli avvocati Fabio Vezzosi e Luciano Spigliantini e Michele Venturini, assistito dall'avvocato Mauro Messeri. Per Flavia Fini, assistita dall'avvocato Tiberio Baroni, è stata invece richiesta l'archiviazione durante l'interrogatorio di garanzia non sarebbero emersi indizi di grave colpevolezza. Gli altri tre hanno scelto la strada del patteggiamento. Patrizia Lalumia, assistita dagli avvocati Michele Ceccherini e Saverio Agostini, Elena Monetti, difesa dall'avvocato Antonella Mazzi e Francesca Proietti, difesa dall'avvocato Saverio Agostini, l'unica ad aver chiesto scusa di fronte alle nostre telecamere. Siamo stressati, siamo molto provati e niente giustifica questo che abbiamo fatto. Comunque chiediamo scusa a tutti, alle famiglie e principalmente agli anziani. A breve sarà fissata l'udienza preliminare. Grazie a tutti.